E' tornato il nostro padre Gianluigi Pasquale, grazie, docente all'Università Pontificio Rateranense e nostra via, nostra strada per conoscere e comprendere ancora più da vicino le vite dei Santi e ringrazio lui e ringrazio la mia redazione perché il Santo di oggi è proprio da scoprire, da scoprire sempre di più. Direi proprio di sì perché è questo San Benedetto Giuseppe Labre nato nel 1748 ad Amet in Francia e morto soltanto a 41 anni è tanto poco conosciuto quanto molto conosciuto e molto amato perché era nato appunto in Francia nella Francia cattolica di allora del XVIII secolo ed era il primo di 15 figli da una famiglia di agricoltori tra virgolette benestanti. Però ha espresso fin dall'inizio, ecco perché diventa fascinoso questo Santo, il desiderio di dedicarsi al silenzio di Dio, soltanto che è stato poi il buon Dio che gli ha cambiato i piani. Ecco, aveva avuto anche uno zio parroco che lo aveva iniziato al latino, allo studio delle lettere classiche, come era al tempo e poi aveva anche intentato proprio per rispondere, per gratificare questo desiderio di assoluto di entrare in quelli che allora erano i tre ordini monastici più famosi. Tentò per ben tre volte di entrare in una certosa, cioè tra i certosini. Poi una volta tra i frappisti, tra i trappisti e lì non fu accettato, così dice l'Enciclopedia dei Santi, per delle forti febbri, ecco qui qualcosa di misterioso, di sopranaturale, di naturale che lo presero e poi una sola volta dai cistercensi. Ed è lì che l'abate fa quella prima profezia che poi declinerà la vita di questo nostro San Giuseppe Benedetto Labre. Gli disse, il tuo posto sarà l'altrove. Adesso si tratta di capire quale sarebbe stato questo altrove di Dio. È definito questo santo, santo pellegrino, vagabondo di Dio, lo zingaro di Cristo e il pellegrino della Madonna. Ha fatto, se avesse avuto il contapassi, questo ho sempre pensato, guardatelo questo ragazzo, guardatelo bene e guardate bene quell'arco che c'è alle sue spalle. Ha percorso in 14 anni... 33 mila chilometri. Calco, 33 mila chilometri. È qualcosa di piuttosto lungo, sì, sì. Perché? Perché lui aveva fatto un voto durante una particolare convalescenza, perché sapeva che il suo posto fosse comunque quello di un uomo che dovesse portare attraverso la parola di Dio il bene e la carità. Infatti, oltre a tutti i titoli che lei giustamente ha declinato, c'è anche quello di patrono dei senza tetto, perché lui aveva intuito in questo suo desiderio di assoluto che il tetto del suo monastero, del suo convento, non sarebbe stato appunto quello di una certosa, ma il mondo. Ed è per questo che comincia, ecco questo è interessante, a fare come il popolo di Israele, che è sempre stato pellegrinante. Il popolo di Israele non è mai stato stanziale, ecco come potrebbe essere adesso nella Terra Santa, ma è sempre stato, in ebraico è Am Segullah, popolo santo in cammino. E lui ha mimato questo pellegrinare. È partito dalla Francia, poi è sceso fino a Torino, poi è sceso fino qui a Roma, è passato anche per Loreto, secondo alcuni anche a Santiago di Copostela e soprattutto ad Assisi. Finché giunge a Roma nel 1770, prima in maniera temporanea, in maniera definitiva il Colosseo nel famoso 43esimo arco, lo ricordano ancora alcuni romani fino anco adesso, del Colosseo nel 1777, dove si stabilizza di fatto e da lì riprende i pellegrinaggi. Perché i romani lo chiamavano il penitente, sarà stato Erpenitente, devo pensare, del Colosseo, perché quegli archi del Colosseo erano un naturale rifugio o comunque luogo dove chi voleva si andava a ricoverare, tra virgolette, trovava ricovero. Ecco, quella sua attenzione ai senza tetto, sa, me lo rende così moderno, lo rende così moderno questo santo. Cioè lui aveva attenzione a tutti i colori ed erano tanti all'epoca, ce ne sono tanti anche oggi. E' super moderno, è super moderno, venivano un po' messi in disparte, al bando, dalla società. E' super moderno perché infatti lui non solo ha assimilato questo pellegrinare del popolo ebraico, ma appunto portandosi appresso soltanto il Nuovo Testamento, l'Imitazione di Cristo e anche il Vangelo, e portando, come abbiamo visto prima nella iconografia, la corona del Rosario, si è fatto vicino ai senza tetto, essendo lui uno senza tetto. Pensi che mangiava soltanto erbe selvatiche, pane che gli veniva dato e beveva acqua, a tal punto che quando ne avanzava, lui povero, senza tetto come gli altri, ne dava ai senza tetto. E si capisce che amore attrae amore, come l'ora solare attrae l'ora solare. Quanto è caro, guardi, padre Gianluigi, allora, è una meraviglia. La trae come una calamita. È una meraviglia, lei è solare. La chiesa di Santa Maria ai Monti a Roma, San Benedetto Giuseppe Labre muore, muore lì, muore lì vicino. C'è una piccola targa che ricorda questa morte e muore giovane questo santo, muore alla fine perché il suo fisico non ce la fa più. Era usato, ma anche perché come lei, io chiedo scusa, ho interrotto... Ma lei deve parlare, mica devo parlare io. Perché lei prima aveva giustamente evidenziato le due elissi della spiritualità di Giuseppe Fabri, cioè la grande devozione all'Eucarestia. Lui stava ore e ore in palpitazione davanti al Santissimo Sacramento in tante chiese qui di Roma e anche all'Oreto. E soprattutto alla Vergine Maria, guardando la quale entrava in estasi, proprio come vediamo adesso qui con gli occhi che sta guardando la Vergine Maria. Ora questa vita, protratta negli anni e nei mesi, lo rese evidentemente esausto anche di energie. Allora, la nostra Antonellina Ferrara è andata a visitare la casa dove si è spento questo grande santo, gestita dalle oblate apostoliche prosanctitate e poi è andata due passi, sono due passi, nella chiesa di Santa Maria ai Monti. Andiamo anche noi, vediamo. Siamo nel posto che custodisce la memoria del momento in cui Benedetto Giuseppe Labre è morto, quindi ha visto le ultime ore della sua vita. Questa era l'abitazione del macellaio Francesco Zaccarelli e della sua famiglia. Benedetto Giuseppe si sente male la mattina del 16 aprile del 1783 e viene portato qui perché Francesco Zaccarelli, aiutato dal figlio Paolo, lo soccorrono e lo portano a casa loro. Quando lo portano qui dalla chiesa della Madonna dei Monti, lui che è ancora in stato di semi e coscienza, non vuole essere messo sul letto perché è abituato a dormire per terra, è abituato alle condizioni più umili e non vuole questo privilegio. La stanza diventa poi, nel corso dei decenni successivi, quando si diffonde la devozione a Benedetto, diventa questa cappella. C'è la prima lapide della sua tomba, c'è il cuscino della sua bara, lì dove lui è stato posto, ci sono appunto anche le lenzuole, la veste che gli è stata messa e poi c'è anche una maschera di cera che è stata realizzata proprio nel momento dopo ovviamente la sua morte. Nella sala qui accanto al santuario ci sono altri oggetti, i suoi indumenti, i suoi oggetti personali e poi troviamo il materasso, proprio quel letto dove lui non voleva essere messo ma che lo ha accolto nell'ultimo momento della sua vita. È particolare perché una parte di questo materasso è stata donata alla sua casa natale in Francia per cogliere ancora meglio quanto è viva la memoria di questo santo ancora oggi. Penso che valga la pena andare a visitare proprio la sua tomba che si trova nella chiesa qui vicino. Questa è la chiesa della Madonna dei Monti, la chiesa ovviamente principale di questo quartiere. Qui è stato sepolto e si trova appunto tuttora la tomba di San Benedetto Giuseppe Labre e si possono vedere tanti pigettini, tanti messaggi che i pellegrini che vengono a pregare sulla tomba di Benedetto Labre lasciano proprio all'interno, sopra la sua tomba. Allora, grazie alla nostra Antonella Ferrara, il santo cento anni dopo la morte si festeggia il 16 di aprile però di fatto appena muore si ferma, si ferma tutto. Si ferma tutto. In quell'anno in cui morì il 16 aprile del 1789 appunto a 41 anni era esattamente il mercoledì santo. Morì qui a Roma in via dei serpenti e era così diffusa la sua fama di santità appunto di patrono dei senza tetto, di grande uomo misericordioso verso i più poveri che a Roma dovettero per la prima volta, a Roma che è la città eterna, bloccare i riti della settimana santa perché si diffuse la voce è morto il santo. A tal punto che la gente accorse nel luogo dove spirò, dove rese l'anima al cielo e non riuscirono a celebrare il giovedì a Roma, il giovedì santo, il venerdì santo. Questo viene ancora ricordato appunto nella biblioteca Sanctorum, caso più unico che raro. Caso decisamente più unico che raro. La modernità, perché proviamo a prendere questo santo e a metterlo vicino alle parole di Papa Francesco. Ecco, Papa Francesco ha varie espressioni che sono diventate quasi speculari nella Evangelii Gaudium, una delle quali è, sulla quale lui insiste molto, il tempo è superiore allo spazio. Lui lo dice per far capire che noi dobbiamo essere disponibili anche a trasferirci. Ma appunto, l'aveva capito ante l'Ittera, ma il nostro benedetto Giuseppe Labre, perché è vissuto poco tempo, come ha detto lei, soltanto 41 anni, ma quanto spazio evangelico con il pellegrinaggio ha percorso. È riuscito a dare questo? Prego. Aveva capito che non è importante la lunghezza degli anni della vita, ma il fatto che in quegli anni della vita tutti noi possiamo raggiungere l'eternità. Allora, io devo chiudere purtroppo, ma l'appuntamento con il nostro padre Gianluigi Pasquale è solo rimandato alla prossima puntata. E lo ringrazio, lo ringrazio intensamente. Con noi venite, venite tutti. Diamo l'appuntamento, la recita della Conocina alla Divina Misericordia. Poi siamo noi e poi alle ore 14, domani, l'ora solare, con un particolare ringraziamento a chi così tanto bene ci sa far entrare nella vita dei santi. E a chi ci intervista. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie, a domani. Grazie, grazie, faccio il bene. Grazie. 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 Grazie.